Buongiorno a tutti, benvenuti su Dite la vostra che io dico la mia. Parliamo ancora una volta del generale Vannacci perché il candidato ormai in quota Lega ha suscitato un polverone con un'intervista rilasciata ieri alla stampa e tutti i giornali di oggi o quasi tutti la riprendono in prima pagina faccio scorrere un po' di titoli e anzi li vediamo insieme noi vediamo di leggere un po' di titoli Corriere della Sera in testa il giornale più letto d'Italia, disabili e bufera su Vannacci, prima pagina la stampa, il giornale da cui è partito tutto, disabili e bufera su Vannacci Giorgetti contro Salvini, il resto del Carlino, disabili a scuola, tutti contro Vannacci il messaggero, scuola e disabili, il caso Vannacci scuote la Lega libero, ossessione, Vannacci a tutta pagina e chi più ne ha più ne metta esplode il caso Vannacci, il gazzettino secolo XIX, Vannacci rivolta generale ma cosa è successo? Andiamo con ordine ieri esce un articolo importante a tutta pagina sul quotidiano La Stampa dove sostanzialmente si titola e riporto l'articolo per farvi vedere a tutta pagina Mussolini era una statista classi separate per disabili virgolettato quindi secondo la stampa ovviamente Vannacci avrebbe detto nell'intervista queste cose quello che ha fatto scalpore in queste ultime ore non è tanto la questione di Mussolini anche perché lui l'ha detta, l'ha ripetuta più volte che non dà giudici storici e che Mussolini resta uno statista ma è la questione dei disabili le classi separate per disabili insomma una discriminazione e quant'altro ovviamente oggi tutti i titoli dei giornali o la maggior parte tranne alcuni tranne in particolare Libero che secondo me fa bene dire ossessione Vannacci e questo poi dirò la mia premetto che non voterò per nessuno quindi sono un pensatore libero che dice quello che pensa però probabilmente il titolo della stampa effettivamente come si è già difeso Vannacci era un po' forbiante perché rileggendo la parte incriminata risponde il giornalista che gli chiede vorrebbe separare gli studenti in base alla bravura? e il generale risponde credo che delle classi con caratteristiche separate aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo e anche quelle con più quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare continua il giornalista sembra discriminatorio cosa farebbe con chi ha disabilità o ritardi nell'apprendimento? non è discriminatorio dice il generale per gli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti non sono specializzato in disabilità un disabile però non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record di 100 metri gli puoi fare una lezione insieme per spirito di appartenenza ma poi ha bisogno e qui ovviamente di aiuto di un aiuto specifico che di fatto ci sono oggi anche gli insegnanti di sostegno a voler proprio andare a fondo la stessa cosa continua il generale vale per la scuola chi ha un grave ritardo di apprendimento si sente più o meno discriminato in una classe dove tutti capiscono il volo non sono esperto di disabilità lo ripete questo concetto quindi ammette di non conoscere bene la materia ma sono convinto che la scuola debba essere dura e selettiva perché così sarà poi la vita o almeno così è stata la mia vita allora giudicate voi nel senso che da un titolo di un giornale nazionale la stampa che di fatto virgoletta che vannacci vuole classi separati per disabili parte tutta una polemica bufere scatena reazioni ministri della lega che intervengono al volo tutti si fiondano sulla notizia la domanda che pongo onestamente è questa voi cosa ne pensate e vi ho letto la parte di intervista discriminata vannacci ha parlato di classi separati in maniera secret e semplicita e poi vi chiedo secondo voi oggi che esistono gli insetti di sostegno non sono di fatti una differenzazione tra l'unni perché hanno appunto capacità diverse e in qualche caso hanno bisogno di un sostegno un aiuto maggiore per poter andare avanti questa non è già una differenzazione de fatto insomma a me pare sempre di poter dire che ho premesso che io sono un libero pensatore e dico quello che penso ma continuando così vannacci porterà a casa milioni di preferenze perché io non ho mai visto nessun candidato partire in prima pagina con presunte bufere polemiche create un pochino ad arte un pochino forse volute che poi non fanno altro che instillare una parte della popolazione la reazione di sostenere questo candidato è avvenuto per i suoi libri è avvenuto per i suoi libri tanto contestati quanto comprati avverrà probabilmente dal punto di vista elettorale questo è il mio pensiero ho voluto fare questo video per capire la vostra perché mi sembra corretto innanzitutto partire dalle reali parole del generale e arrivare a come è possibile che tutta la stampa italiana non abbia fatto un'analisi chiara e serena della sua intervista e come è possibile che parte della politica di cui tra l'altro fa parte della Lega ministro Giorgetti che lo attacca direttamente in modo anche bizzarro avrebbe potuto essere più accorto insomma non si renda conto che così facendo si dà solamente ovviamente più voce a quello che il generale voleva dire non a caso siamo qua a specificare in un canale che vuole essere di dibattito sui temi generali voi cosa ne pensate il generale vannacci a queste elezioni prenderà una marea di vuoti se continua così oppure oppure invece subirà queste polemiche in maniera negativa andando quindi a pescare sempre di meno dite la vostra e io come al solito ho detto la mia a pescare e io come al solito